Oggi ho fatto mio una frase che mi era stata a suo tempo raccontata da alcuni miei collaboratori quando si parlava di cominciare il servizio di emergenza. Mille miglia cominciano con un passo, l'ho proposta ai ragazzi, è stata ripresa, credo anche da altri che sono intervenuti. Oggi un piccolo, apparentemente piccolo gesto molto significativo, quello di fornire da parte di una società a noi molto vicina come territorio CSM e Agam, una borraccia in alluminio, peraltro di alluminio riciclato perché induca dei pensieri positivi rispetto alla necessità che ognuno di noi faccia una piccola cosa per raggiungere un grande risultato, di cui abbiamo un grande bisogno, visto la deriva in cui va contro il pianeta. Mi piacciono le cose concrete, mi piacciono le piccole cose, quindi mi sono tratto mio agio. Continuiamo su questa strada. Grazie.